Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Alle porte di una nuova fase di maltempo vediamo l'evoluzione meteo prevista per il primo weekend di ottobre. Si inizierà nella giornata di venerdì 2 quando un profondo vortice depressionario dovrebbe portarsi tra isole britanniche e Francia. Piogge temporali intensi al nord dove potranno assumere anche carattere di nubifragio, specie su Liguria e al ridosso delle Alpi. Sabato la perturbazione dovrebbe evolvere verso est portando maltempo anche sulle regioni del centro ed in particolare su Toscana, Umbria e Lazio. Più ai margini sud con temporali possibili solo sulla Campania. Attenzione che qui si avvertirà un temporaneo ma sensibile aumento delle temperature a causa del richiamo prefrontale. A seguire i principali modelli propongono un nuovo impulso instabile tra domenica e lunedì con maltempo soprattutto al centro nord. Trattandosi di una tendenza seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.